Quando è? Il 14 febbraio San Valentino Ci si bacia Un beso a Florentia Il 14 febbraio tutti al piazzale Anche noi ci staremo a dare un bacio al piazzale Il mio bacio lo mando alla mia bambina che è la mia vita Lo mandiamo a tutti i florentini e tutti i turisti che vengono a visitare questa bellissima città Un bacio a tutti, alla mia moglie, alla mia figliole e a tutte le donne di Firenze, le più belle del mondo Noi andiamo a Firenze quindi vi aspettiamo sul piazzale per dargli un bacio Ho la mia moglie che ti riesca ma va bene guarda ma è Fiorentina Ciao ragazzi